In seguito alla stesura della relazione dell'agronomo comunale sulle condizioni generali delle alberature di Pino d'Aleppo, piantate a Lucera, in cui sono stati espressi alcuni suggerimenti che il predetto tecnico ha formulato sulla scorta delle indagini condotte sul patrimonio arborio comunale, con particolare riferimento alle condizioni delle piante di alto fusto presenti nel centro della città, è stato dato incarico a tre dirigenti del comune di Lucera di indagare più a fondo sulle condizioni di sicurezza delle alberature ad alto fusto piantate a Lucera. Al dottor Francesco Pellegrino, responsabile Verde, Ambiente e Patrimonio del comune di Lucera, al maggior Beniamino Amorico, comandante di Polizia Municipale del comune di Lucera e al dottor Giancarlo Flaminio, responsabile Lavori Pubblici e Protezione Civile del comune di Lucera, è stato affidato l'incarico di relazionare, con riferimento alle materie di proprio interesse, se le piante di alto fusto ed in particolare i pini di Aleppo presenti lungo le principali vie della città soddisfino parametri e requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza stradale, pubbliche incolumità e mantenimento del patrimonio arborio. Dalle analisi ed accertamenti effettuati da ciascuno dei tre dirigenti individuati, dovrà successivamente essere prodotta e presentata all'amministrazione un'unica relazione finale, contenente le proposte operative che consentano di perseguire un maggior livello di sicurezza generale e di salvaguardare gli equilibri naturali, evitando contenziosi per l'ente comune. Gli eventuali interventi da attuare dovranno concludersi al più presto, comunque non oltre il 31 marzo 2012.